Di sabato del Como parliamo di calcio, questa sera parliamo del Como che ha anche qualche novità di mercato tra poco ce le racconta tutte qua in studio il nostro esperto del Como ormai Mario Molteni che saluto, buon pomeriggio, ciao Mario Buon pomeriggio Marco e un saluto agli amici che ci seguono in diretta Allora molto bene, dicevo parliamo anche della sfida di sabato perché si torna a giocare il sabato contro l'Ascoli in casa, parliamo di un Como che sta andando davvero molto molto bene è secondo in classifica in solitaria e quindi le prospettive sono assolutamente importanti ma calma perché c'è tutto il giorno di ritorno da giocare Allora le ultimissime giornate, iniziamo dal mercato Mario vai pure Sì Marco perché sono arrivate proprio notizie anche noi la conferenza stampa si è conclusa pochi minuti fa allo stadio Senigallia con il mister Rosian Roberts e subito dopo è arrivata la notizia l'ufficializzazione che il Como ha ingaggiato il centrocampista centrale dell'Austria-Vienna Mattias Braun-Oder, un 21enne in prestito fino al 30 giugno del 2024 quindi fino a fine stagione con... Quindi un ragazzo estremamente giovane giusto? Sì è un ragazzo giovane ma che ha già una discreta esperienza Tra l'altro mi dicono anche capitano della nazionale under 21 dell'Austria Sì è stato... si ha fatto tutta la trafila nelle giovanili della nazionale austriaca capitano dell'under 21 è stato nominato nel 2022 miglior esordiente della Bundesliga e quindi un giocatore che sulla carta è un centrocampista va ad arricchire quel reparto dove già abbiamo tanta qualità perché abbiamo Verdi tanto per fare un nome per citare un nome comunque è un giocatore che è arrivato pochi minuti fa ha firmato con il Como e quindi magari potremmo anche vederlo tra i convocati anche se è giovedì, dopo domani ci sarà la partita chissà... Dicevo Mario, è il secondo nuovo arrivo, giusto? Il secondo, esatto Facciamo un passo indietro perché l'altro giocatore che è arrivato poco fa anche lui, perché è arrivato qualche giorno fa ieri più che altro è stata data la notizia ufficiale è Nicolas Gioachini Italo-americano il papà è italiano è una giovane lui non è in prestito ma è stato acquistato con un contratto fino al termine della stagione 2026-2027 quindi si punta molto su questo giocatore anche per il futuro oggi ne ha parlato in conferenza stampa Mr. Roberts ha detto che lo conosce, è un giocatore che gli fa piacere averlo per la qualità che può dare e anche per le varie alternative che può offrire un attaccante con Cutrone, Gabrielloni poi sappiamo che c'è Ciaia che fa anche lui è un esterno offensivo quindi un giocatore che può dare tante alternative al Como è contento non sappiamo ancora se sarà tra i convocati perché, proprio notizia anche questa di qualche minuto fa le pratiche burocratiche non sono ancora state esplettate completamente ma c'è molta fiducia per averlo a disposizione già tra i convocati per la partita di dopodomani alla Senigallia ed è molto molto contento, lo dicevamo, il mister perché dice tra l'altro Gioacchini ha già vissuto in Italia, se non ricordo male, a Parma e quindi conosce il calcio italiano, il calcio europeo è sicuro da parte sua che ci sarà sicuramente un grande contributo alla squadra e parlando proprio di calciomercato con il mister ha detto non mi esprimo ancora su nomi perché in questo momento c'è una ridda di nomi c'è una lista di tanti giocatori che potrebbero così interessare al Como ha detto non faccio nomi ma sappiate che stiamo cercando dei giocatori che siano giocatori che ci completano al meglio la rosa e soprattutto che sappiano inserirsi nel complesso del gruppo e nello spogliatoio Allora bene, con Mario abbiamo fatto il punto intanto sulle certezze che sono Gioacchini, attaccante, e Braun Oder, centrocampista che è arrivato quest'oggi Esatto I nomi anch'io ne ho sentiti, ne ho visti molti Noi abbiamo preso nota perché ormai Non so se c'è anche Molteni, non so, possiamo mettere qualsiasi No, nel senso no Ci sono dei nomi, prego Mario No, bene, bene, si parla di Insame Ex Venezia, attualmente allo Young Boys un giocatore di esperienza un giocatore che conosce anche lui il calcio italiano che potrebbe insomma farci comodo uno che non ha bisogno di presentazioni dal Cagliari Goldaniga, anche lui Strefezza dal Lecce, centrocampista offensivo di qualità insomma, girano molte voci Certo che a Lecce ha trovato poco spazio, è vero è vero, è vero, però insomma ma è comunque, è certo Altri nomi è rispuntato dalla Serie C il capocannoniere Tommaso Fumagalli Gianna, Gianna Erminio anche lui, 12 reti quest'anno altri nomi che continuano a girare anche Felipe Jack del Palmeiras e ancora Ballet insomma, ce ne sono tanti, tanti che girano poi bisognerà vedere in effetti In discrezioni sì c'è ancora qualche giorno di mercato fino alla fine di gennaio il 31, si chiude però le certezze sono Braun Oder e Gioacchini come hai detto tu forse potrebbero essere almeno magari Gioacchini scusa, Braun Oder potrebbe essere convocato in extremis per la partita di sabato vediamo anche perché ci sono da risolvere problemi burocratici legati al transfer vedremo un po' intanto ecco con Mario abbiamo fatto un po' il punto della situazione molti tifosi ce lo chiedono effettivamente ed era giusto quindi fare un po' il punto con te in questa fase discendente del campionato di SLB domenica è la terza di campionato di ritorno come cominciamo secondo in classifica le prospettive insomma fanno stuzzicano molti tifosi che ti chiedono e ci chiedono dello stadio ma non lo so anche lì siamo in attesa di conoscere e ci chiede anche c'è il nostro viva ci chiede che cosa ne pensi del passaggio di Cerri che è stato lasciato appunto in prestito all'Empoli allora Cerri da parte mia è un pensiero ma ovviamente visto che sei qua e visto che ovviamente non abbiamo la possibilità di interloquire con i dirigenti con i vertici del Comune parli tu ovviamente che sei competente mi è spiaciuto molto vedere andar via Cerri un giocatore che comunque è stato importante per la storia del Comune in questi mesi questi anni che è rimasto con la casacca azzurra non è detto che poi non possa ritornare bisognerà vedere cosa succederà anche l'anno prossimo Cerri e lì davanti in effetti quest'anno ho trovato poco spazio vuoi che c'è stato prima l'infortunio quella capocciata tremenda con Odental che l'ha costretto a restare fuori dal terreno di gioco per parecchie settimane e poi penso sia stata anche una scelta tecnica perché hanno preso piede soprattutto Verdi e Gabrielloni che si stanno alternando e a questo proposito ho fatto proprio una domanda oggi in conferenza stampa a mister Roberts e la domanda era ma possono coesistere in campo Gabrielloni Cutrone e Verdi risposta la risposta è stata decisa sì non è detto che possa già metterli in campo questa settimana anche ricordiamoci che poi dopo ci sono sì però se ci sono giocatori di qualità ci stiamo parlando esatto possono certamente con gli accorgimenti dovuti poter convivere insomma sul terreno di gioco condividere gli spazi io sarei curiosissimo di vederli in campo ma per una semplice motivo Cutrone e Verdi sono giocatori che hanno esperienza da serie A Premier League nel caso di Cutrone e abbiamo visto la quanta bellezza Albert dice che la coppecciata non è stata con Odental ma con Abil Gard Abil Gard sì forse ti sei sbagliato con Odental va bene niente nessun problema Mari ciao buongiorno Enrico ecco che ci chiede si sa qualcosa sulle cessioni le cessioni dovrebbero ecco Gioacchini Fumagalli Brown Odder dice Eros e poi Davide Goldaniga dicono operazione fatta tanta roba si arriva anche strafezza Davide però ecco Davide di voce non ci sono certezze giusto Mario ufficiale c'è solo Goldaniga è una voce importante ma anche strafezza secondo me soprattutto strafezza un saluto a Galizio Molteni vorrei chiedere se davvero arriva strafezza ecco anche Gaetano devo dire che perché certo con lui Ballet Gioacchini Fumagalli Insame e l'Austria e il Goldaniga mercato da otto sì però aspetta Gaetano al momento abbiamo la certezza di Gioacchini e di Brown Odder strafezza è un nome è un nome che circola però non credo che Lecce se ne libererà così facilmente Goldaniga sì forse potrebbe qualche chance in più rispetto a strafezza a mio giudizio però comunque vedo che i tifosi Mario sono giustamente stanno pensando se arrivano tutti questi nomi insomma siamo veramente messi bene poi Gaetano dice ancora Forza Como unica fede unica mo quindi anche Gaetano lo salutiamo Davide ci scrive dalla Campania esattamente vabbè devo dire che insomma i tifosi con questi nomi che tu hai fatto Mario li hai fatti come dire un po' sognare ma è giusto è giusto che sia così però dobbiamo stare con i piedi per terra il mercato è fatto anche per questo ecco allora iniziamo a pensare all'Ascoli per chiudere la nostra puntata di oggi tanti che ti salutano e che ti dicono di tornare ancora sì ma tornerà anche nelle prossime settimane Mario ecco Ascoli adesso lasciamo il mercato parliamo un attimo dell'Ascoli perché poi bisogna concentrarsi sabato arriva l'Ascoli l'Ascoli l'ha detto anche il mister Roberts in conferenza stampa sarà una partita sicuramente non facile come non lo è nessuna delle partite di Serie B soprattutto quest'anno ma attenzione perché l'Ascoli arriva dalle ultime cinque giornate con una vittoria una sconfitta ma tre pareggi e le ultime due sono state contro Parma e Bari a Parma pareggiato 1-1 passando addirittura in vantaggio e con il Bari 2-2 recuperando un risultato che sembrava quindi è una squadra c'è anche chi ricorda che l'Ascoli all'andato è stato fatale a Lungo dopo una vittoria effettivamente Lungo venne esonerato dopo aver vinto ad Ascoli e la domenica è arrivato l'esoner no ma vabbè era se non ricordo male l'11 di novembre e adesso non lo so però effettivamente vedo i nostri si è vero è vero anche questo è vero anche questo però credo che sia diverso vincemmo ad Ascoli grazie a un gol al quarto minuto adesso vado a memoria di Cutrone se non ricordo male vincemmo 1-0 contro l'Ascoli per chi ha un po' di anni come me sulle spalle va a Senegalia da tanto tempo abbiamo sempre avuto molte difficoltà anche nello scoro dei risultati storici non siamo messi benissimo quindi è una squadra piuttosto ostica quest'anno sulla carta è evidente che siamo in netto vantaggio perché qui basta leggere la classifica loro stanno al terzo ultimo posto sì è una squadra difficoltà e noi siamo invece al secondo posto quindi già questo la dice lunga però sono tutte quelle partite che devi giocare in un modo intenso come dice mister Roberts e oltretutto proprio al mister rifacendosi alla partita di sabato scorso contro la Reggiana e soprattutto al secondo tempo che è stato un secondo tempo insufficiente da parte del Como per quello che il Como voleva dare e soprattutto per quello che ha fatto vedere nella prima parte perché nella prima parte è una partita strepitosa nel secondo tempo anche lui ha detto abbiamo recitato in questa settimana nello spogliatoio diciamo il mea culpa abbiamo riflettuto parecchio sugli errori che abbiamo fatto perché non ho visto quella velocità quell'intensità quel coprire tutte le le parti del campo che insomma una squadra che punta in alto e punta la promozione soprattutto diretta diciamolo deve mettere in campo quindi lui si aspetta maggiore intensità maggior possesso palla e determinazione per portare a casa per tutti i 90 minuti quindi quella continuità che serve per vincere anche contro l'Ascoli ricordiamolo che è importante questa partita contro l'Ascoli perché dopo ci sarà la trasferta di Terni subito dopo arriverà il Brescia e poi parte quel filotto di partite dove incontreremo le top a cominciare dal Parma e poi Venezia Cremonese e Lecco col derby quindi insomma dobbiamo fare tanti punti e dobbiamo cominciare a farli da adesso l'ha detto anche Mr. Roberts che poi parlando degli indisponibili per la partita di domani come è ancora indisponibile non ci sarà Kerrigan mentre il resto dei ragazzi dovrebbero essere tutti disponibili recuperato anche Barba che aveva avuto una sindrome influenzale e settimana scorsa non era al meglio è entrato solo negli ultimi minuti anche se proprio oggi ha preso insomma gli hanno fatto un occhio nero vi ha detto in allenamento con un giocatore della primavera ma nulla di grave quindi ci sarà perfettamente a disposizione chiede quindi maggiore intensità io ho preso nota di tutte le cose che ha detto sono aggressivi ecco ho usato questo termine la mister in conferenza stampa per delineare un po' la formazione dell'Ascoli sulla formazione non si sbilancia non lo fa mai ma abbiamo una buona buonissima notizia che Ioannu sta bene e che quindi perché no magari potrebbe anche cominciare dall'inizio o comunque subentrare la partita in corsa e Ioannu è un giocatore importante per questo comun queste le ultime con Mario la presentazione della partita con l'Ascoli poi sui nostri social più tardi troverete anche il video e l'intervista tutta la presentazione e anche le ultime allora per chiudere per ricapitolare cari amici cari tifosi che ci state seguendo che ti salutano tanti e quindi le certezze sono Brown Oder confermato oggi e ieri Gioacchini gli altri nomi che abbiamo fatto che Mario oggi ha fatto da Goldaniga a Strafezza passando per Fumagalli e Balletta vedremo se saranno rose fioriranno ancora qualche giorno di mercato ancora qualche giorno di trattative le uniche due certezze sono queste in uscita abbiamo già detto Scaglia che è andato al Sud Tirola Arrigoni Arrigoni anche lui e poi Cerri ovviamente che è andato all'Empoli esatto adesso poi anche qui le voci continuano a girare però finché non c'è la certezza soprattutto in uscita anche perché giustamente il mister ha detto io per rispetto alle altre squadre non faccio nomi ed è giusto che sia così lo facciamo noi diciamo per allora sabato pomeriggio il Como torna a giocare al Sinigaglia ore 14 terreno di gioco ottimo non non è ghiacciato quindi perfetto ma in questi giorni le temperature crescono ok quindi sabato pomeriggio Mario grazie punto dell'ostituzione con Mario Molteni Mercato e Ascoli e noi ci vediamo magari la settimana prossima grazie Mario un caro saluto buonasera